Bentornati, buona settimana, buon inizio settimana a tutti quanti. Continuiamo a raccontarvi la storia delle eccellenze italiane. Questa settimana parleremo di orificeria, siamo a Caserta e vi racconteremo la tradizione napoletana, l'orificeria napoletana. Parliamo di Castronuovo Gioielli. Continuano anche gli appuntamenti su Tiscali, i nostri guest editor e i loro suggerimenti. Questa settimana Francesca Lovia ci racconterà come aiutare i nostri ragazzi a trovare le loro passioni. E allora seguitici!